Come si temeva, dice il sindaco Francovalenti, dieci anziani e cinque operatori sono affetti dal coronavirus. Adesso si attende soltanto l'esito dell'ultimo tampone. Tre degli anziani contagiati sono stati ricoverati in ospedale e gli altri positivi sono tuttora all'interno della struttura. Tra di loro c'è anche la direttrice della casa di riposo Pitagora di Santa Margherita di Belice che continua a chiedere lo sgombero dell'RSA. Focolaio anche nella casa di riposo Collegio di Maria della vicina Sambuca di Sicilia. E c'è preoccupazione anche in altre zone della Sicilia. Vittoria, ad esempio, è la città dell'Aragusano con il maggior numero di contagiati. C'è il timore che il virus possa propagarsi ancora. Da qui la decisione dei commissari di chiudere le strade nelle ore notturne. Arrivano intanto nuovi fondi per aiutare questa volta le comunità locali più colpite dal covid-19. Al comune di Villafrati, in provincia di Palermo, che qualche mese fa fu dichiarato zona rossa in piena emergenza coronavirus, andranno 115.000 euro dei 40 milioni di fondi del Ministero dell'Interno stanziati per il 2020. Contributo che servirà al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale, in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria. Lo dichiara la parlamentare palermitana del Movimento 5 Stelle, Roberta Laimo. Ne approfitto, dice, per rivolgere un augurio di pronta e completa guarigione al sindaco di Villafrati, che proprio nelle ultime settimane è stato ricoverato a causa del covid e a tutti i residenti del paese che stanno vivendo questo periodo particolarmente difficile.